33 anni Giorgio, questo segno insiste nella tua persona, nel tuo corpo. Come li stai vivendo questi 33 anni? Una data comune, un altro anno che si chiude ma non diverso dagli altri oppure per te rappresenta qualcosa di particolare il 33esimo anno della tua stigmatizzazione? Io lo vivo con grande onore, con grande gioia e ti confesso che adesso che sono passati ormai 33 anni, già siamo 33 anni e quasi 20 giorni, volevo che sparisse questo segno perché credo di aver dato tutto quello che dovevo dare ma sempre mi rimetto la volontà di Dio, il mio corpo è precario anche se vuoi io cerco di mantenermi fisicamente, sono stato un ex atleta, però obiettivamente sono tanti anni e i dolori che provocano sono difficili da superare, però invece di sparire come magari profondamente desideravo sono rimasti, anzi proprio quel giorno, anzi il giorno dopo, hanno sanguinato vistosamente, con un messaggio che ho ricevuto, quindi si è fatta la volontà di Dio e sono felice, guarda se vuoi la notizia positiva che ti farà piacere, io sono felice di servire, sono felice adesso più di quanto non mai lo sia stato, non perché prima non lo ero, ma mi sento più cosciente, più soddisfatto, vedo che la nostra opera ovviamente modestamente, però è apprezzata, seguita e poi mi diverto quando ci sono i contrasti, quando siamo criticati o addirittura traditi, c'è proprio un vero divertimento perché se io non fossi, diciamo, anche perseguitato in forma piccola ovviamente, o tradito, o diriso, o non creduto, che messaggio cristiano è? Sarebbe una grande blef essere creduto sempre. Cristo è l'esempio del sacrificio e della persecuzione, io purtroppo, dico purtroppo perché mi piacerebbe essere perseguitato come Gesù per imitarlo, però siccome credo che non c'è niente da perseguitare in questa zona, tranne degli errori che magari ho fatto, ma i miei avversari se sono fratelli sono amici e comunque non sono i miei amici, se non sono amici nemmeno, i miei amici li conosco bene, sono grandi boss, grandi politici corrotti, grandi personaggi che vogliono veramente fare del male, quelli sono i miei amici, davvero. Quindi sto bene, ecco la risposta che forse ti fa felice. Spero che la mia vigliaccheria, la mia paura di sanguinare venga un giorno soddisfatta, ma non mi tiro indietro e non tradisco Gesù o il Padre che desiderano che io possa ancora avere questi segni. Grazie a Dio sanguinano in forma minore, prima se tutti ricordi, era tutti i giorni, adesso molto attenuato, ma ci sono. Quindi il segno Giorgio insiste, ti sei dato una risposta sul perché insiste questo segno? Ma ieri era l'anniversario di Padre Pio, ho scritto un messaggio della sua stigmatizzazione e il messaggio che mi è arrivato dal cielo dice che questi segni sono la presenza di Gesù in mezzo a noi attraverso strumenti umani. Nessuno può osare pensare che io mi senta Gesù, ma per chi studia la scienza dello spirito che tu insegni in modo straordinario nei tuoi seminari e deve conoscere la personificazione. La personificazione è quando un'entità solare, un essere divino, sceglie degli strumenti umani nel tempo, nei secoli, per manifestare la sua presenza. Gesù ha scelto cosa poteva scegliere? I segni dell'estimate. Quindi quando lui dice non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi. Volevo intendere quello che prima dell'apparizione finale, che sarà lui con il suo corpo resuscitato di duemila anni fa, cioè Gesù di Nazareth cristificato, prima di questa apparizione lui sarebbe apparso in visione o addirittura fisicamente attraverso gli stigmatizzati. Quelli però che hanno il segno permanente, non che quelli che hanno il segno non permanente non lo siano, ma le stimate diciamo avute da Padre Pio o dal tuo fratello che ti parla, che sono quotidiane, quella è una presenza diciamo più a 360 gradi. Detto questo noi siamo però persone, io sono Giorgio, Padre Piero, Padre Pio, San Francesco, San Francesco, con scelte completamente diverse. Alcuni sono stati frati, sacerdoti, gente comune come me, donne assolutamente, le donne poi sono state stigmatizzate straordinarie, però il messaggio è unico. Anzi, nei secoli si è evoluto. Prima era prettamente cattolico, poi c'è stata un'apertura verso altre sfere spirituali, finché Padre Pio ha aperto ufficialmente, con una sua dichiarazione spettacolare, le porte dell'universo, dicendo non siamo soli nell'universo. Il primo in assoluto che l'ha detto è Padre Pio. Padre Pio ha aperto.